buongiorno buongiorno una cortesia perché se avete i costumi da uomo? Quelli da uomo si, quelli da trichè che abbiamo finito. Quelli da trichè che abbiamo finito? Compa, lascia a prendere, tanto mancano ancora due settimane prima che andiamo al mare, vedrai che per allora un bel costume l'avremo trovato. Hai ragione, andiamo. Un cake, aveva fatto buono. Te l'avevo detto che alla fine lo trovavamo il costume. Hai ragione, non solo che mi tiro un po' il cavallo, facciamo un'immersione? metto la maschera. Andiamo.